Gli scatti ultimi del processo sono stati inseriti in un digestore anaerobico che ha restituito il digestato liquido e solido, utilizzato come ammendante, restituendo alla terra ciò che dalla terra è stato sottratto nel solco dell'economia circolare. I risultati positivi ottenuti con una simulazione di un impianto pilota per avvicinarsi sempre di più a parametri tecnici-economici proprio di una industria sono stati confermati. Récemente, alcuni locali hanno avuto a rispondere a questa varietà dall'extinzione e rinforzano in una nuova orchard, per produzione non solo fraccia, ma anche fraccia, fraccia e fraccia. Decidiamo creare un progetto un progetto di O.G. Progetto di O.G. Il programma di recupero genetico, intrapreso più di 15 anni fa in Veneto, si basa su una rete di allevatori custodi e centri di conservazione, ma la sopravvivenza di queste razze è in gran parte legata alla possibilità di individuare modelli di sostenibilità economica dell'allevamento in un luogo in cui il senso di appartenenza coinvolge tutti, a partire dalla scuola e dai più giovani. Grazie per la visione!